Ciao, oggi siamo qua per lanciare un grido di allarme per la minaccia che incombe sugli equilibri del territorio apo-versigliese e su tutto il sistema economico della costa. Ci vogliamo essere portavoci delle preoccupazioni delle rete delle imprese turistiche, dei delbergatori, campeggiatori che sono estremamente preoccupati per il nuovo piano regolatore portuale. Siamo qua oggi per fare anche chiarezza perché nel silenzio dell'opinione pubblica e sotto un periodo di vacanze si vuole approvare questo amplimento del porto ma comunicativamente per quelle poche notizie che escono si parla sempre di waterfront, questo fronte mare che Matteo Martinelli, consigliere di Carrara, portavoce del Comune di Carrara, proverà a fare chiarezza. Sì, il progetto del waterfront, appunto questa interfaccia, è un altro progetto indipendente da quello che si vorrebbe andare a votare entro la fine del mese di agosto in Consiglio Comunale a Carrara dove appunto verrà messo in discussione il nuovo piano regolatore portuale che prevede un notevole ampliamento dell'area portuale con la creazione di un approdo turistico verso la zona di Levante che andrà precisamente dalla focia del torrente Carrione fino al confine col Comune di Massa e un ampliamento dalla parte del porto appunto commerciale intubando praticamente il torrente Carrione e la cui focia praticamente entrerà in mare per circa 600 metri. La gravità di questo progetto è che ricarica in pieno il progetto bocciato dal Ministero e dal TAR del Lazio proprio per la fragilità del sistema territoriale appuano. A questo punto sulla fragilità del sistema e sulle minacce e l'insesto idrogeologico voglio passare a parlare a Francesco De Pasquale. Sì, già il Ministero aveva detto espressamente che non era il caso di costruire opere a mare alla focia del Carrione ma semmai di rimanere all'interno con tutte altre problematiche evidenti. Bisogna ricostruire un tessuto idrogeologico che sia mirato alla salvaguardia dell'esistente quindi andare a intervenire a monte per liberare tutte quelle criticità che ancora oggi sovrastano l'intero abitato e non andare a chiudere lo sbocco al mare del Carrione perché altrimenti si crea un effetto tappo che si ripercuote su tutta la città. Allora chiediamo una perizia psichiatrica per tutto il PD perché da un lato professa di essere e di voler governare una regione a identità legalitaria quando fa tutto il contrario di quanto la legge prevede il Ministero ha brocciato il progetto e loro vogliono andare avanti con questo progetto il TAR ha brocciato il progetto e loro vogliono andare avanti con questo progetto non solo, lo stesso PIT votato dal PD dice che non si può costruire alla foce del Carrione e il PD in netta contraposizione con se stesso vuole andare avanti con questo progetto noi chiederemo anche un'indagine pubblica su questo grande progetto complessivamente l'opera costerà più di 50 milioni di euro e c'è bisogno che i cittadini dicano la loro grazie